Quante volte al giorno sentiamo parlare di innovazione, nuove tecnologie e futuro? Tutto deve essere smart, veloce, performante. E se stessimo perdendo di vista il vero obiettivo? Next to me è il podcast di Mitsubishi Electric filiale italiana, condotto da Pepe Moder, che parla degli impatti positivi dell'innovazione sulla vita di persone, comunità e imprese. Storie di imprese e di persone che fanno innovazione intorno a un fulcro comune, l'essere umano. Cerca Next to me sulla tua app preferita. All sorts of professionals are getting hands-on training in safer, more cost-effective virtual environments. Meta for Work. Work smarter, closer, safer, together. Visit forwork.meta.com to learn more. Sei la mia schiavitù. Sei la mia libertà. Sei la mia carne che brucia, come la nuda carne delle notti d'estate. Sei la mia patria, tu, coi riflessi verdi dei tuoi occhi, tu, alta e vittoriosa. Sei la mia nostalgia di saperti inaccessibile, nel momento stesso in cui ti afferro.